La Battaglia di Canne La Battaglia di Canne fu una delle più importanti battaglie della Seconda Guerra Punica, combattuta il 2 agosto del 216 anno corrente tra l'esercito romano, comandato dai consoli Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo, e l'esercito cartaginese, comandato da Annibale. La battaglia ebbe luogo nei pressi della città di Canne, nell'attuale Puglia, e si concluse con una schiacciante vittoria cartaginese. Secondo le stime, i romani e i loro alleati persero circa 70.000 uomini, mentre i cartaginesi ne persero circa 6.000. La Battaglia di Canne fu una delle più grandi sconfitte subite da Roma nella sua storia. Essa ebbe un impatto profondo sulla Repubblica Romana, provocando un grave crollo morale e politico. Le cause della battaglia La Seconda Guerra Punica fu un conflitto tra Roma e Cartagine, due delle principali potenze del Mediterraneo occidentale. La guerra iniziò nel 218 anno corrente, quando Annibale, generale cartaginese, attraversò le Alpi con un esercito di circa 50.000 uomini. Annibale riuscì a sconfiggere i romani in una serie di battaglie, tra cui la Battaglia del Ticino, la Battaglia del Trebbia e la Battaglia del Trasimeno. Nel 216 anno corrente, Annibale si trovava in Italia Meridionale, dove aveva conquistato numerose città. I romani, nel frattempo, avevano eletto due nuovi consoli, Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo. I due consoli erano decisi a fermare Annibale e a riconquistare l'Italia meridionale. Lo svolgimento della battaglia La battaglia di Canne ebbe luogo in un'area pianeggiante, circondata da colline. Annibale schierò il suo esercito in una formazione a cuneo, con la cavalleria pesante ai lati e la fanteria leggera al centro. I romani, invece, schierarono il loro esercito in una formazione tradizionale, con la fanteria pesante al centro e la cavalleria ai lati. All'inizio della battaglia, i romani attaccarono il centro dell'esercito cartaginese. L'affanteria cartaginese, composta da fanti libici e spagnoli, fu inizialmente respinta. Tuttavia, Annibale ordinò alla sua cavalleria pesante di attaccare i fianchi dell'esercito romano. La cavalleria cartaginese, composta da cavalieri libici e numidi, fu più veloce e più manovrabile della cavalleria romana. I cavalieri cartaginesi riuscirono a sfondare i fianchi dell'esercito romano e a circondarlo. I romani furono intrappolati in una morsa mortale. L'affanteria cartaginese, che era rimasta in posizione difensiva, attaccò l'esercito romano da ogni lato. I romani furono massacrati e solo pochi riuscirono a fuggire. Le conseguenze della battaglia La battaglia di Canne fu una delle più grandi sconfitte subite da Roma nella sua storia. Essa ebbe un impatto profondo sulla Repubblica romana, provocando un grave crollo morale e politico. La sconfitta di Canne indebolì la posizione di Roma in Italia meridionale. Annibale fu in grado di conquistare gran parte dell'Italia meridionale e di minacciare Roma stessa. La sconfitta di Canne ebbe anche un impatto sulla politica interna romana. La sconfitta fu vista come un fallimento dei consoli Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo. I due consoli furono destituiti e condannati a morte. La battaglia di Canne fu un punto di svolta nella Seconda Guerra Punica. Essa segnò l'inizio di un periodo difficile per Roma, che fu costretta a lottare duramente per la sopravvivenza. La battaglia di Canne nella cultura popolare La battaglia di Canne è stata rappresentata in numerose opere letterarie e artistiche. Tra le opere più famose che trattano della battaglia si possono ricordare, la storia di Roma di Tito Livio, che descrive la battaglia in modo dettagliato. L'Eneide di Virgilio, che contiene un riferimento alla battaglia nella descrizione della morte di Enea. La battaglia di Canne di Jacques Louis David, un dipinto che raffigura la battaglia in modo drammatico. La battaglia di Canne è ancora oggi ricordata come una delle più grandi sconfitte subite da Roma nella sua storia. Essa è un monito del fatto che anche le potenze più forti possono essere sconfitte. Grazie a tutti.